Voga 2016, l'app a cui non sai fare a meno E sempre di app social parliamo, perché naturalmente parliamo di Twitter. Twitter è il mio secondo mondo, io adoro interagire con quel social, adoro interagire con le persone, perché è un sistema velocissimo per scambiarsi informazioni, per interagire, appunto un modo molto veloce per trovare notizie e informazioni quando ci sono grandi o gravi fatti di cronaca, come è successo negli ultimi, purtroppo, grandi attentati. E naturalmente se non mi segui su Twitter provvedi subito, trovi il mio link sul doobly-doo e sulla scheda come ripeto sono molto attivo, e infatti l'app Twitter è motivo per cui sto per cambiare il mio cellulare, il mio smartphone, perché quello che ho attualmente un po' datato, l'app Twitter nel tempo si è aggiornata, è diventata molto pesante, adesso spesso mi va in crash, ho provato a resettare il telefono, ma niente, purtroppo è troppo vecchio il telefono, quindi lo cambierò presto. E tu, invece, qual è l'app di cui non riesci fare a meno? Fammelo sapere con un commento qua sotto, e non dimenticare di fare pollice in alto e iscriverti al canale. Io sono Grizzly, questo è Voga2016, noi ci vediamo domani! Grazie! Grazie!